Allora, Domenico, sai com'è? Ti spiego, no? Mi è venuta questa idea di questo format che secondo me è innovativo e carino perché io, diciamo la verità, ho esperienza, ho il genio proprio alla televisione, no? Mi è venuta questa idea, chef per una sera, e mo' sto cercando di coinvolgere un po' così perché ho pensato tutto io, la regia, le luci, ho studiato tutto, ma mi è venuto proprio, cioè ho anche pensato che tipo cara, un meccanismo molto carino, ma solo c'è sta amica mia che la vorrei coinvolgere, sta Carmen Morello, io faccio fare un ruolo, una camerieretta, una mezza sfigatella e porta qualche piatto, l'importante è che si vede qualche volta, capito? Oh Carmen, cara, come stai tutta faccia? No niente, ho saputo che fai questa trasmissione. Eh no, perché sentivo Carmen Morello e Carmen Morello. No vabbè, io te penso sempre, caro, lo sai che te lo chiedi, ma visto che questa trasmissione è tua, non è che ti servirebbe in comico, mi dai un ruolo. Ma ci stavo pensando in realtà, però un piccolo ruolo, giusto una cosiddetta. Eh, ho una camerieretta, se faccio una camerieretta porto qualche piatto. Sento chef, una cosa così, che dici? Ma magari Carmen, io te prego, ho bisogno.